Cos'è? Ma cosa fai? Ma prendi il posto di Lucino, ma lo sfidi, dopo certo che ti mena, questa è una sfida, questa è l'aiuola di Lucino, ne approfitti perché adesso lui è di sopra che l'ho chiuso io in casa. Eh, miau, cioè tu lo sfidi però, forse sei lì perché lo cerchi, eh, cerchi il tuo amico, è dal nonnino, amore, amore santo, che dici, mi rispondi, saluti i tuoi amici di Youtube, saluta le ziette del gruppo British, ciao, ciao, sono Mosini, vieni. Vieni qua a sederti con me, guardate che carino, ti vieni a sedere qua, lui a quest'ora si siede lì, dai che arriva anche il nonnino fra un po', dai, ci sediamo, ci sediamo qui, guardate che carino, è l'ora dell'aperitivo, è l'ora dell'aperitivo, amore, ciao, è l'ora dell'aperitivo, è vero? Eh, ti devo pettinare io, ma come sei affettuoso, ma sei affettuosissimo, ma sei proprio un patato dolce tu, solo che se non metto lo zampirone, amore, io non posso stare qui senza zampirone, oh amore mio, oh baci, 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 facciamo dei baci per tutti, baci per tutti i nostri amici di internet, facciamo baci per tutti, amore, baci per tutti da Mosini, baci per tutti, sì, 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 tanti, tanti bacini, eh, senti che vento che c'è, non ti dà fastidio, ti piace il vento, Mosi, amore, ma guarda che brutti colori che ha stoppo, che tu sei nero, perfettamente nero, come si fa? come si fa? Ma non c'è qui l'assistente, l'assistente virtuale alle foto, ma dove è andato qua? E' schifo, almeno così sei un po' nero, sei il nero come sei? Mosini Va bene, direi che può bastare Ciao, ciao, ciao a tutti da Mosi Mosini Ciao, ciao a tutti da Mosi Ciao a tutti da Mosi